Le novità sono un po', ne abbiamo raccontate alcune, secondo me quello che vi potete aspettare rispetto alla volta è che questa volta non c'è solo il carro e le tappe, ma c'è tutta una narrazione sdraiata con un corteo che racconta tutto l'episodo, tutta la vicenda di Santa Rosalia dall'inizio alla fine e gli stadi emotivi sono ovviamente molto attretti all'inizio, molto di rivelazione, di speranza come secondo momento, come terzo momento, l'esplosione, l'incolorazione, il colore, le rose, eccetera, e poi la grande festa. E poi c'è anche una sorpresa a metà che secondo me avrà un grandissimo impatto emotivo sulle persone. Grazie